I presidenti del Consiglio regionale Valerio Cattaneo dell'Associazione per il Tibet e i diritti umani Gian Piero Leo hanno accolto a Palazzo Laskaris Dolma Gayari, ministra degli interni del governo tibetano, in esilio da Ramsala in India. La ministra ha chiesto all'Assemblea e all'Associazione di sostenere progetti concreti a favore di gruppi di rifugiati che fuggono dal Tibet e giungono in India dopo pericolosi e duri viaggi attraverso la catena dell'Himalaya.